Un blog per promuovere la città in un progetto ampio che vede i ragazzi dell'ITC Battisti impegnarsi per raggiungere un target di popolazione fondamentale per la sopravvivenza dei nostri territori, quello del turismo. Il progetto si chiamerà Hashtag Destinazione Fano e sarà appoggiato dall'amministrazione comunale e dalla Proloco per raccontare la città della fortuna tramite sguardi differenti, non istituzionali ma genuini e divertenti, condividendo i idee, esperienze, consigli e informazioni utili, guardando al futuro senza dimenticare però le tradizioni locali. Usiamo i ragazzi che in un qualche modo vanno a contatto direttamente con quello che è il settore dell'informatica, il settore del turismo, grazie al consenso della Preside Gennari che in un qualche modo con la quale abbiamo firmato questa convenzione scuola-lavoro con i ragazzi che li terrà impegnati appunto in questo progetto. Quindi un progetto di valorizzazione del territorio tramite un blog www.destinazionefano.it e tramite una serie di pagine dei principali social che ovviamente prenderanno nome Destinazione Fano.